L'ho perduto il mio caro Tutto ok Ma Che dite se proviamo a cittare Non è che sto allergico a cittare Non ho idea Che dite ci proviamo Si 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 Aspettate però Facciamo piccole manovre Ok Si e qua come ci passo Cosa No 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 rimettiti bene kuruma No raga se si rompe Se si rompe la kuruma non posso fare più niente No No raga ho uscito Non ci voglio crede Negli LTS Sali su Sali su Oh mio dio Ok ci siamo Allora io direi di prendere un bel po' di armi Ma che dite Si si Ok Dove sono tutti quanti Aha Volevi cittare eh Ok Scusami Black Non volevo Guarda l'olori Come al solito Deve cittare eh C'è qualcuno che sta qui E' qui E' qui E' qui Da qualche parte Non lo vedo Aspettate che adesso ci divertiamo eh Ok Eccolo qua Facciamo così Oh mamma mia Scusami Dario Dove sono gli altri Dove siete C'è qualcuno che sta giù Aspettate spegniamo questo minigun Che fa un casino Allora c'è l'olori qua eh E Quanti sono Solo uno Un certo Tucket Eccolo 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 Aspettate che adesso mi diverto io con lui eh Sta parlando a città Sta salendo Aspettate Oh aspettate che è tutto mio eh Ok Così Ah lo sapevo che volevi fare eh Abbiamo vinto per caso Io direi proprio di sì Buttiamoci Round vincitore Prossimo round Ok Nuovo round Devo dire che il primo round mi è piaciuto eh Perché abbiamo citato e siamo riati alle armi Però Adesso Loro citteranno Ma va bene così Un po' per uno non fa male a nessuno Sui Io direi di fare una bella cosetta Andiamo qua Via 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 Veloci 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 Che dobbiamo essere i primi a cittare noi eh Ok E come faccio a risalire? Dimmi che c'è uno spazio Sì 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 Aspettate C'è qualcuno Noo Noo Regà non ho citato E vabbè dai Se citavo per qua mamma mia No 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 Non hai visto niente te eh Io non sono qua eh Ok bravo C'è qualcuno qua no? Qualcuno ha citato No Ok 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 Aspettate che non è finita eh O citiamo un quer trucchetto Oppure Citiamo un quer trucchetto Ok Pasqua è citato Citiamo così Ci sono Oh mio dio Zitti tutti zitti tutti zitti tutti Ok 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 sali qua sali qua Adrenalina Adrenalina c'è qualcuno alle armi vero sui? No Siamo solamente E Pasqua sui Ma quanto sei cittone sui? Io veramente tanto Ammetto che Citto troppo eh Ok Sui che dici Andiamo in questa macchina o qualcuno potrebbe citare? No Andiamo giù andiamo giù Non credo che citta qualcuno Poi C'abbia Oh L'ho preso? Dove sei? Come l'ho preso Anthony? Questo era un trickshot Raga Ok E ora manca Black Dove sei? Aspettate 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 Come possiamo uccidere Black? Sei sceso? Boom Ok 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 preso Dopodiché Chi manca? C'è qualcuno che sta giù per caso? No 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 Perfetto abbiamo vinto Credo di si Abbiamo Stravinto Round vincitore Prossimo round Ok Terzo round Se vinciamo pure questo Abbiamo vinto tutto l'LTS Quindi vinceremo anche questo round Quindi vinceremo anche questo round Ma qualcuno è crashato? Vediamo un po' raga Perché non mi avrà lista? Ah siamo 3 contro 3 No No Tutto ok Tutto ok State tranquilli Dobbiamo fare veloce Perché gli altri Possono cittare con la moto Quindi facciamo sempre Molta attenzione Ok ci siamo Aspettate un attimo E toglie Chi è stato? Non mi dica Eccitato pure te No 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 Sui arriva questo Quella moto è città Dai sui Se perdiamo è colpa tua Non so chi è stato Ma Lorenzo? Credo di si Aspettate Andiamo Ok Io Io avevo cittato Raga Ce voglio crede E ho ricittato Tanto state tranquilli Che arriviamo alle armi Ci arriveremo Tranquilli Ok No rimettiti bene Kuruma Sali su Ok 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 Cosa prendiamo di bello? Secondo voi qualcuno citta Oppure Possiamo andare tranquilli Con la scramjet Non saprei Chi sei te? Cosa? Dove? Non sali Non sali Non sali C'è Oh Era l'ultimo? Mamma mia Rega che round Partita vincitore Avviamo altri due round Ok Ho riavviato l'LTS Ho messo due round E che dite Come andrà? Secondo me bene Abbiamo le moto Ok ok Sui Io devo usare la stessa tecnica di prima Io comunque prima avevo cittato Non so chi è stato Quello suino Cittone Cosa? Scusami Scusami pedone Puri i sordi mi hai dato Rega Ma fate sali sulla moto Invece di schiacciarmi? Ok Andiamo qua Veloce Ah gli altri non cittano Ok Molto educati eh Andiamo Andiamo Chi è che sta usando la mia tecnica? Non lo so Ok Sui piano 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 Sui Adesso è più veloce dalla luce Dobbiamo cittare Ok No Liscio pass qui Mi dispiace veramente tanto Ero fermo eh Non so come ha fatto a non beccarmi Ma comunque noi No Sali Dov'è? Ok Dai non mori No No Sui non c'ho ormidi Non c'ho ormidi Dove sei? Dov'è che sei? Non me becchi eh Mi dispiace C'ho pochi colpi eh Ma che fai Scendi Pasqui Ok E ora Oh No Questa è della mia squadra Qua c'è qualcuno Allora È arrivato Un aiutante Chi è questa aiutante? Dario Io vado giù eh Aspetta C'è qualcuno là C'è qualcuno là T'ho preso C'è qualcuno qua? No Si sono nascosti Lui ha preso la delaxo Sta citando lui Ok ok L'ha ucciso lui Era l'ultimo No 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 Manca Attack È nascosta radar E sapete che forse So pure dove è nascosto? Se non mi sbaglio Non stai qua Sui Eccolo Eccolo È a gaccia A gaccia Dove scappi? È esploso sì Abbiamo vinto Abbiamo vinto Round vincitore Prossimo round Ok Secondo round Se vinciamo anche questo Abbiamo fatto un LTS Praticamente perfetto eh Quindi vediamo Andiamo 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 Belli cittoni eh Più cittoni che mai Vi voglio Ok Però se citto io non mi dovete Spingere eh Ok Veloce Chi è che è rimasto Tra un lato? Eh Dobbiamo cittare in due? C'è spazio solo per uno eh Eh Cittate 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 che io ho qua Ok c'è qualcun altro Che vuole cittare L'ho riaccittato No Aspettate Oh No No Pensavo che avevo cittato Perché a ciò io crede Pensavo di sì Mannaggia mia Aspettate Qualcuno ha cittato Dell'altra squadra Sì Me lo sento Me lo sento No no Uno della mia squadra K Meno male Sui E te come citti Vorrei sapere Vai giù Togget Non si citta eh Ok E ora ricettiamo anche noi Ma che Regà Leggermente più veloce Sono io che sto sbagliando Mannaggia me eh Oddio ma c'è qualcuno alle armi? Regà Credo che ci sia qualcuno alle armi Ma sono due della mia squadra Vediamo quello che succede Non lo so Non ho idea Non ho idea Sui Oh ma guarda chi c'è Aspettate aspettate Ti voglio cittare Ma come non c'è spazio? Oh sui Ma hai visto come ho cittato sui? Ok aspettate eh Non so quello che sta succedendo su Sinceramente Lori Chi è che ha parcheggiato qua? Vorrei sapere Chi è che ha parcheggiato qua? E io come faccio a rialearmi? Steffi dove sei? Steffi dove sei? Steffi là No no non passi te O saliamo K Meda in passaggio Sì sì Arriva 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 Aspetta sui eh Ok Anche se volevo Anche se volevo rare Steffi DJ Grazie grazie Sui molto gentile Veramente molto gentile E ora lo voglia rai Lo voglia rai Aspettate Minigun Minigun No 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 Non sparate Non sparate Ok Dove sei Steffi Non lo vedo Ah ma stai qua Ok ok C'è qualcun altro che sta esattamente qui Non lo riesco a vedere Non lo so dov'è Sicuramente lo uccideranno gli altri Comunque anche questo round è fantastico Non c'è altro da dire Ok Abbiamo Abbiamo vinto Mabba mia Spettacolare Questa LTS Partita vincitore Se vi è piaciuto questa LTS Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate al mio secondo canale Big Pork Saluti E si suoni Belli Grazie a tutti